È stato convalidato l'arresto del pirata della strada che lo scorso sabato ha travolto ed ucciso Vanessa Bonatti mentre stava attraversando la strada con i canni al guinzaglio davanti alla sua abitazione a Castelfranco Piendiscò. L'uomo originario del Valdarno Fiorentino, di fronte al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice per il 55enne, accusato di omicidio stradale pluriaggravato, ha disposto agli arresti domiciliari. Mancavano pochi minuti alle 10 quando il 55enne, originario del Valdarno Fiorentino, alla guida di una Opel ha travolto in via Varco, a Vaggio, la 50enne mentre stava rientrando a casa dopo una passeggiata con i suoi cani, un impatto fatale che non le ha lasciato scampo. Subito dopo l'incidente, l'uomo premuto l'acceleratore si è allontanato in fretta senza prestare soccorso. È stato rintracciato dai carabinieri poche ore dopo ed è finito agli arresti domiciliari. A gravare ancora di più sulla sua situazione, adesso l'esito dell'alcol test nel sangue. È stato infatti riscontrato un tasso tre volte superiore, il limite consentito. In passato gli era stata già sospesa la patente perché trovato sempre al volante in stato di ebrezza. era riuscito a rientrarne in possesso solamente pochi mesi fa. Giovedì 4 maggio alle 15, infine, si svolgeranno i funerali di Vanessa nella chiesa della Collegiata in piazza Marsiglio Officino a Figline. La salva sarà esposta nella cappellina della Misericordia in piazza San Francesco, già da mercoledì.